Qui è ora. Qui è dove conoscere significa confrontarsi con le sfide della contemporaneità. Ascoltare le nuove generazioni da accogliere nel tempo presente. Ora. Università Cattolica del Sacro Cuore. Visita il sito unicat.it. Qui è ora. Qui è dove conoscere significa confrontarsi con le sfide della contemporaneità. Ascoltare le nuove generazioni da accogliere nel tempo presente. Ora. Perché il passato sia testimonianza. Il futuro diventi responsabilità e impegno. Ma è nell'oggi che la nostra intera comunità universitaria si fa custode di formazione e ricerca al servizio della società. Università Cattolica del Sacro Cuore. Visita il sito unicat.it. Hi everyone and welcome to the 96th episode of Praticamente Inglese. The podcast that guides you through mastering business English one phrase at a time. Ciao a tutti, come state? Spero bene. Today we are going to talk about sales. So as the summer sales season kicks off in Italy, penso che intorno al 6 luglio inizia la stagione dei saldi in Italia, I think it's the perfect time to brush up on our business English vocabulary related to sales. In today's episode I'll cover 20 common terms and phrases you might encounter during the sales period with examples and explanations to help you communicate effectively in both English and Italian. Quindi se siete nel contesto dei saldi, un pochino nei siti internazionali sicuramente vedrete tanti di questi termini. E li andiamo a vedere uno a uno facendo anche qualche piccolo esempio. So sale. A sale is a period during which goods are sold at reduced prices. I saldi sono un periodo in cui appunto i prezzi delle materie, dei prodotti, sono scontati. The summer sale starts next week with up to 50% off. I saldi estivi iniziano la prossima settimana con sconti fino al 50%. Discount. No? Uno sconto. A discount is a reduction in the usual price of something. Quindi è una riduzione rispetto al prezzo che comunemente quel prodotto ha. We are offering a 20% discount on all clothing items. Offriamo uno sconto del 20% su tutti gli articoli di abbigliamento ad esempio. Clothing items. The clearance. La liquidazione, la svendita sarebbe. A clearance sale is when a retailer sells product at reduced prices to clear out all the stocks. Stocks sono, diciamo, il magazzino, no? Quello che noi chiamiamo magazzino. Check out our clearance section for the best deals. Date un'occhiata alla nostra sezione di liquidazione e di svendita per le migliori offerte. Promotion. A promotion is a special deal or offer designed to attract customers. We have a special promotion on software products this month. Abbiamo una promozione speciale sui prodotti software questo mese. Price reduction. A price reduction is a decrease in the price of a product. or service, no? So there is a significant price reduction on electronic gadgets. C'è una riduzione significativa del prezzo sui gadget elettronici, ad esempio. Marked down. When an item is marked down, its price is reduced, no? Sto cercando un pochino di sinonimi, no? Quelli che sono clearance, sale, reduction, promotion, marked down. All summer, April has been marked down for the sale. Tutti gli articoli estivi sono stati ribassati, appunto, in funzione dei saldi. Limited time offer. A limited time offer is a special deal available only for a short period of time. So this is a limited time offer, so act fast. Questa è un'offerta a tempo limitato, quindi affrettatevi, insomma, no? Muovetevi. Mettetevi in azione velocemente. Buy one, get one free. Quante volte l'avrete sentita questa, no? Quindi ne compri una e la seconda è gratis, no? Il due per uno sarebbe alla fine un 50% di sconto. This is a sales promotion where customers get a second item for free when they buy one. So we have a buy one, get one free deal on selected items. Abbiamo un'offerta, compra uno, prendi poi un secondo gratis su alcuni articoli selezionati. Seasonal sale. A seasonal sale is a discount event that happens during a particular season. Our seasonal sale includes discounts on a variety of products. I nostri saldi stagionali includono sconti su una varietà di prodotti. The inventory. L'inventario. Inventory refers to the goods and materials a business holds for the purpose of resale. We need to clear our inventory before the new stock arrives. Quindi dobbiamo salutare il nostro inventario, il nostro magazzino, prima dell'arrivo del nuovo stock, della nuova stagione. Stock clearance, appunto. Quindi a stock clearance is an event where products are sold off cheaply to clear out the warehouse, il magazzino. Quindi the stock clearance sale offers up to, I don't know, 70% off on all items. Quindi la vendita della liquidazione di tutto il magazzino offre sconti fino al 70% su tutti gli articoli. Price cut. A price cut is a reduction in the price of a product, no? Or a service. There has been a price cut on all our latest gadgets. C'è stato un taglio dei prezzi su tutti i nostri ultimi gadget. The bargain. The bargain is something bought for less than its usual price. Quando fate un affare fate a bargain, no? Or a deal, ma dopo ne parliamo. So don't miss out on the great bargains available during the sale. Non perdetevi le grandi occasioni disponibili appunto durante i saldi. Vi dicevo prima the deal. A deal is a special offer or a discount on a product or a service. So we have the best deals on summer fashion. Abbiamo le migliori offerte sulla moda estiva. Then we can have a flash sale. A flash sale is a very short period of time where goods are sold at a lower price than usual, no? So, hey guys, join our flash sale for exclusive discounts for a limited time. Partecipa ai nostri saldi lampo per sconti esclusivi appunto in questo tempo limitato. Then you can have a coupon. A coupon is a voucher entitling the holder to a discount for a particular product, no? Quando vi diamo il coupon per il 15%, 30%, 50% di sconto oppure su sconti relativi a determinati prodotti. So, use this coupon to get an additional 10% off your purchase. Usa questo coupon per ottenere un ulteriore 10% di sconto sul tuo acquisto. The final sale. A final sale is when items are sold at their lowest price, usually with no returns allowed. The final sale usually, sapete, sono gli sconti finali, no? Proprio quando si arriva alla fine del periodo degli sconti, c'è proprio tutto quello che rimane al 70-80%. Di solito è il momento in cui i prezzi sono più bassi, ma le taglie magari sono minime. C'è veramente pochissima scelta. Items in the final sale are not returnable. Gli articoli in saldo a questo periodo magari non sono restituibili, non c'è una politica di restituzione. Quindi lo prendi a un bassissimo prezzo, ma lo prendi così e poi te lo devi tenere se non dovesse andarti bene. Savings. Savings refer to the money you save by purchasing items at a reduced price, no? So, enjoy great savings on electronics during our summer sale. Godi di grandi risparmi sugli articoli, appunto, elettronici durante i nostri saldi estivi. Outlet. An outlet is a store where goods are sold at discounted prices, often direct from the manufacturer. No, direttamente da colui che produce. Gli outlet sono appunto dei posti dove possiamo trovare le cose già scontate durante tutto il periodo dell'anno, anche perché magari si riferiscono a stagioni passate o cose di questo genere. E in più, nell'outlet ulteriori sconti possono essere aggiunti durante il sale period, durante i saldi. So, visit our outlet store for the best discounts on designer brands. Visita il nostro negozio outlet per i migliori sconti sui marchi di design, dei brand. And then we have the price match. Questo è molto comune, soprattutto all'estero. The price match is a guarantee that a store will match a lower price offered by a competitor. No? We offer a price match guarantee on wholesale items. Il price match è quando un negozio, tu gli fai vedere a quanto il negozio competitor ti offre quello stesso prodotto e lui ti match a quel prezzo. Cioè, se lui vende un prodotto a 30 euro e tu gli dimostri che il competitor o da qualsiasi altra parte lo puoi trovare a 15 euro, lui fa il match di quel 15 euro. Quindi, we offer a price match guarantee on wholesale items. Offriamo una garanzia di prezzo su tutti gli articoli in saldo. And I think that's it. By learning these terms and phrases, you will be better prepared to negotiate and discuss sales in a business context. Stay tuned for more episodes to help you improve your business English. I hope you enjoyed today's episode. I wish you a great and productive week ahead. And let's go and grab some good offers. And I'll see you in the next episode. Bye! Oggi voice ti consiglia... Ciao, sono Zoe Pifani. Se cerchi il podcast perfetto per motivarti e fare il tuo glow up nel 2024, And Now What? è proprio quello che fa per te. Lo trovi su tutte le piattaforme di podcast. Ci vediamo lì. Segui i podcast di voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music. E se sei un utente, 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 se sei un utente. Grazie.